Ueeh, bella a tutti ragazzi, io sono Xyuder e finalmente siamo arrivati al termine del capitolo 2 di Fortnite. 8 stagioni della lunghezza complessiva di più di 2 anni che ci hanno portato finalmente a capire come si sta muovendo la storyline ma non sapere quello che ci aspetta in questo nuovo capitolo. Una nuova mappa? Un nuovo playstyle? Non lo so, ma oggi ho un bel po' di informazioni da farvi vedere per, diciamo, mettervi un pochettino in linea con l'evento che ci sarà questa sera alle ore 22. Ovviamente, come sempre, vi aspetto sulla piattaforma Viola per vederlo insieme. Ci spostiamo subito subito all'ora per parlare di quello che dobbiamo aspettarci e si comincia innanzitutto con un'autizia molto bella per Fortnite. Lo twitta direttamente la pagina ufficiale, thanks for being a part of our squad. Grazie per essere parte della nostra squadra. Fortnite è stato nominato di nuovo per i Game Award che, se non ricordo male, ci saranno il 9 dicembre. Questa è proprio la locandina. La nomination di Fortnite non è riferita solamente a miglior gioco, ma è stato nominato successivamente per il terzo anno consecutivo come miglior community. Io continuo a non sapere come sia possibile che gli facciano una nomination del genere, ma anche come best game designer, best team di sviluppo. Insomma, hanno fatto parecchie nomination, aveva già vinto dei premi. Ovviamente potete andare nella pagina del Game Awards per fare la vostra votazione che poi ovviamente scoprirete il 9 dicembre. Ci sono tanti altri titoli, c'è Apex Legends, c'è Genshin qualcosa, c'è anche Final Fantasy. Insomma, un sacco di titoli sicuramente di punta nel panorama videoludico mondiale. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi perché ecco qui una delle locandine più affidabili del termine, della fine del capitolo 2 di Fortnite. Sembra veramente una follia, ragazzi. Pensare che dopo questi due anni di capitolo 2 ci sono stati altri due anni prima di capitolo 1 e adesso si passerà al nuovo chapter. Che cosa c'è di interessante in questa fotografia? Come potete vedere la scritta The End, quindi la fine, ha delle sagome un po' particolari. Molti hanno detto, poi ve lo faccio vedere in un'altra immagine al termine di questa chiacchierata, che ribaltando la scritta The End appunto si notino delle catene montuose che potrebbero essere riconducibili al K2, quindi quello che ho proprio qui sotto, e là in fondo invece ad una città che conosciamo benissimo, la vecchia città che era presente nel deserto del capitolo 1. Ora vi spiego e vi faccio vedere. Potrebbe essere, nel senso, ovviamente la community continua a gran voce da anni a chiedere il ritorno della mappa del capitolo 1. Boh, ci faranno questo regalo? Non lo sappiamo, di certo sappiamo che in questa ultima season è stata molto più concentrata l'attenzione sul cubo, quindi la parte centrale della convergenza, la skin del cubo che è arrivata con lo stile, quindi il cubo, Kevin, potrebbe di nuovo tornare ad essere una parte fondamentale e principale del nuovo capitolo, chi lo sa. Ma andiamo avanti, oh caspita ci siamo sbagliati, dove siamo finiti? Ci siamo sbagliati un attimino con gli slide. Ed ecco qui invece un'altra notizia molto interessante. Io avevo paura potesse succedere, questa è la tweeta direttamente Fortnite Status, che dice, vuol dire ragazzi che non è possibile in questi giorni andare avanti con i progressi del refera friend, quindi la serie di sfide che dovete fare con un amico e che vi darà, qualora le completate tutte, la possibilità di ottenere il set completo, quindi piccone, deltaplano, skin e wrap, quindi copertura. Speriamo ovviamente che nel capitolo 3 non siano troppo concentrati a capire i vari bug, perché dai io sono sicuro che ci siano ovviamente bug alla grande, e che sia possibile riabilitare questa sezione che ci dà appunto questi regali. Tra l'altro avevano esteso fino a marzo 2022, quindi se non vi funzionano i progressi non preoccupatevi, è un problema che è già stato fatto notare e di cui spero fixino il prima possibile. Andando avanti con il prossimo argomento di oggi, ecco qui un'immagine davvero super interessante che va a riprendere il nuovo banner della pagina Twitter del Donato Mostarda. Allora il banner è ovviamente, lo sapete, la testata, l'immagine in alto, il Donato mi mette sempre queste immagini quando ci sono dei momenti cool di Fortnite, e questa è proprio l'immagine completa. Noi ovviamente vediamo, quando apriamo la sua pagina principale, solo la parte centrale, ma anche qui è abbastanza chiaro, si vede il nucleo centrale, come in realtà lo avevamo già visto in un evento, quello se non ricordo male che ci ha spostato dal capitolo 1 al capitolo 2, che con questo effetto di vortice sembra raccogliere nuovamente a sé tutto quello che esiste. Questo ovviamente porta la possibilità di avere un nuovo buco nero. Vi ricordate quello di 48 ore o dei 36, non ricordo, tra il capitolo 1 e il capitolo 2? Non è assolutamente escluso, anzi è quasi confermato, che anche per questo cambio di capitolo ci sarà un downtime gigante dei server che potrebbe durare dalle 24 alle 48 ore. Io mi auguro ovviamente che alla fine dell'evento di questa sera facciano come hanno fatto l'ultima volta per il cambio season e inseriscano un countdown, in modo che la gente riesce un attimo anche ad organizzarsi per poi riessere presenti con la patch, la nuova patch che dovrebbe essere la 19.10 o la 19.00, che non è altro che la season 19, tra virgolette, per tutti noi sarà la season 1 del capitolo 3. Non vedo l'ora di vederla. Ma andiamo avanti con il prossimo argomento di oggi. Devo riprenderci un attimino la mano con gli slide che non me lo ricordo. Allora, un'altra parte fondamentale del prossimo capitolo, secondo i leakers, ma anche accennato un po' dal signor Donato, è Mida. Cosa vi faccio vedere in questa immagine? Questa è l'immagine della statua d'oro di Mida che era presente sullo yacht di Deadpool di qualche season fa. La particolarità in questa immagine è che Mida era stato concepito per avere gli occhiali, ma in realtà poi è stato deciso di toglierli. Questo poi, appunto da questa immagine, si è iniziato tutto un discorso che ha visto anche proprio l'intervento di Donald Mustard in questo suo tweet ufficiale, dove dice, qua molto simpaticamente, true story, fino a un paio di giorni prima della season 2, Mida aveva gli occhiali. Noi volevamo che lui fosse visto come una persona colta e intelligente, però ci siamo accorti che questa cosa non funzionava. A noi piace di più, abbiamo deciso di metterlo senza occhiali, perché il suo look è molto più cool. Da qui poi, appunto, gli utenti hanno cominciato a interagire con Donald Mustard, che in qualche modo si è un po' fatto scappare il discorso Mida is alive again, quindi Mida non è morto in realtà con l'esplosione della vecchissima, oddio, dell'agenzia ai tempi nel centro mappa. Potrebbe esserci un go back, quindi un ritorno appunto di Mida in questo capitolo 3. Io me lo auguro, perché personalmente a me la mini storyline che si era creata intorno all'agenzia e ai vari boss che c'erano sparsi per tutta la mappa, a me piaceva davvero tantissimo. E andiamo a chiudere con l'ultima immagine di oggi. Questo fu un trailer che non si è ben capito se era stato liccato per sbaglio, se era uscito, se è ufficiale, se non lo è stato. Diciamo che Epic ha un po' bypassato quando ci fu quella giornata di qualche giorno fa dove mezza community vide questo mini video. Nel mini video si vedeva proprio la mappa che si capovolgeva ed ecco qui, ragazzi, che durante il capovolgimento riappare una city che è molto conosciuta dagli utenti di Fortnite. Lascio a voi dire nei commenti come si chiamava questa città. Le montagne, come vedete, sono davvero molto simili. La city, dai, io non vi dico neanche, me lo scrivete qua sotto nei commenti. Insomma, ragazzi, oramai ci siamo. Mancano pochissime ore all'arrivo dell'evento e del nuovo capitolo. Io lo vivrò insieme a voi sulla piattaforma Viola. Spero che il video di oggi vi sia piaciuto. Vi mando un abbraccio grande, un bacione. Noi ci vediamo al prossimo video. Un bel like, ne? Ciao! Non mi parte l'altro. Mmm.